il mazzo di carte tagliano nel punto che preferisci fantastico in questa scatolina ho una previsione ok già so quello che adesso andrà a succedere prendiamo la carta nel punto in cui tagliato il mazzo fa vedere e appoggiarla qui queste non servono più perché tanto la mia previsione fuori scelto esattamente il 5 di fiori no sbagliato non c'è che io c'è un'altra possibilità l'ultima è l'ultima è l'ultimo la tecata è il 3 di cuore la macchetta di come a casa facciamo così in questa maniera e la tua carta è esattamente la donna di quadri no non è possibile